Protestano le titolari e le educatrici dei nidi in convenzione del decimo municipio. Senza stipendio, senza i contributi economici del Campidoglio ormai dall'inizio del lockdown, senza alcuna certezza organizzativa per quanto riguarda le riaperture, rischiano il fallimento e pertanto di non poter accogliere i bambini a settembre. Le operatrici pretendono risposte certe sui tempi di liquidazione delle fatture, tempo che ormai è decisamente scaduto. La situazione è che noi da marzo non veniamo pagate. Abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con il Comune il 29 aprile dietro ritardi dell'amministrazione, però da allora non abbiamo mai avuto risposta, se non che risposte un po' evasive. Questa mattina ho mandato una mail al municipio, però il municipio non mi risponde. Sono abbastanza incavolata perché questa situazione ormai ci sta portando allo sfacelo. Se continua così, penso che bambini a settembre, se li dovrà prendere la raggi, perché noi chiudiamo. A seguito del protocollo d'intesa che siamo finalmente riusciti ad affermare il 29 aprile, ci aspettavamo che le cose andassero più o meno gradualmente nella norma, come tempi. Invece siamo riusciti ad ottenere un documento che è necessario, perché fa parte integrante, va legato alla fattura, che si chiama Allegato A. Per marzo e per aprile l'abbiamo ottenuto soltanto il primo di giugno. Quindi ci siamo sbrigati a fatturare, poi per vie cose ci hanno fatto stornare le fatture e riemetterle verso la fine di giugno, cosa che non è successa in altri municipi molto più virtuosi. Per esempio il primo municipio, perché quando le cose funzionano bisogna dirlo, che addirittura hanno già pagato marzo, aprile e maggio. Quindi alcuni municipi si sono attivati molto velocemente e hanno fatto fatturare e hanno già pagato. Noi siamo indietro. Il loro appello è rivolto direttamente all'amministrazione del decimo municipio. Le fatture infatti sono state emesse dal Campidoglio, ma manca la firma della dirigente dell'area socioeducativa. L'appello che facciamo immediato è ai municipi, di risolvere, almeno di velocizzare, perché oggi al 2 luglio io ho comunque mandato un'email al municipio per sollecitare le fatture e mi hanno risposto che sono ferme e ragioneria alla firma della dirigente. Alla mia domanda, bene, ma quando saranno firmate, c'è una data, c'è un giorno? La risposta è stata non lo so. È una risposta data da comunque un funzionario di una ragioneria che ci deve pagare da marzo, al 2 luglio non si può sinceramente più accettare. La situazione è un po' difficile perché comunque gli stipendi non arrivano, arrivano in ritardo e noi comunque stiamo continuando a lavorare con la didattica a distanza e non è semplice perché è un modo completamente diverso di rapportarsi con i bambini. Se è vero che il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini, allora la nostra società ha ancora molta strada da fare.